messaggio di saluto di antonio tagliani vicepresidente del consiglio e ministro affari esteri e cooperazione internazionale a futuro italia remind rivolgo un saluto a tutti i presenti al presidente del gruppo forza italia al senato maurizio gasparri al presidente del gruppo fratelli d'italia lucio malan e al presidente del gruppo regal senato massimiliano romeo ringrazio il presidente remind paolo risafi per questa occasione di dialogo sulle sfide che abbiamo davanti e le opportunità di crescita per il nostro paese un'occasione per riflettere anche sulla collaborazione tra pubblico e privato in quella che è la seconda manifattura d'europa l'industria il motore della nostra economia innovazione creatività e passione sono la chiave del successo delle nostre imprese nel mondo export e internazionalizzazione delle imprese sono temi centrali per la competitività della nostra economia basti pensare che nel 2022 l'export di beni e servizi ha contribuito per il 37 per cento al pil del paese per questo ho messo l'internazionalizzazione delle imprese al centro della diplomazia della crescita la strategia che ho avviato sin dall'inizio del mio mandato e che ho voluto prioritaria per l'azione del governo l'obiettivo è duplice portare ancora più italia nel mondo tramite un'azione di promozione a 360 gradi delle filiere produttive nazionali e rendere il paese più attrattivo in termini di investimenti flussi turistici e nuovi talenti il dialogo con le mind in tutto questo è centrale i numeri dicono che l'italia di oggi è sulla strada giusta come riconoscono anche le agenzie di rating oggi grazie all'azione del governo il paese attrae sempre più investimenti in tutti i settori dell'innovazione dalla farmaceutica d'avanguardia le tecnologie di frontiera ospitiamo talenti di altri paesi nei nostri a tenere eccellenze rinomati istituti di ricerca questo ci incoraggia a proseguire con determinazione nella risposta alle sfide impegnative poste da una congiuntura internazionale complessa penso all'impatto che le grandi crisi internazionali come medio oriente e uraina hanno sul commercio internazionale sui salari dei lavoratori soprattutto per le economie trenate dalle esportazioni come la nostra penso anche al tema della transizione energetica che vede il governo impegnato a fare dell'italia lo snodo energetiche tra mediterraneo europa o a quello delle infrastrutture con il nostro sostegno e progetti di interconnessione come tunnel di base del brennero la linea ferroviaria turino rione corridoio 13 tra i balcani e il nostro mezzogiorno e in questo momento che dobbiamo fare perno sui nostri punti di forza quali innovazione creatività saper fare italiano l'obiettivo della crescita impone di guardare al futuro solo se continueremo ad alimentare il gioco di squadra tra governo amministrazioni locali e forze reali del paese saremo in grado di immaginare soluzioni innovative sostenibili ai problemi di oggi alle grandi sfide di domani nell'interesse di tutte le categorie di imprese e di cittadini contate su di me contate sul governo